vediamo ora come effettuare la misura della corrente di dispersione o leakage attraverso super combi s dal menu principale attraverso i tasti e cursore ci poniamo sul menu leakage corrente di dispersione selezioniamo con save enter entriamo all'interno del menu in questo caso sto utilizzando una pinza opzionale che si chiama ht96u è una pinza in ac con un triplice fondoscala e in particolare con il fondoscala un ampere risulta essere adeguata avere un'adeguata risoluzione al rilevamento delle correnti disperse quindi una volta selezionato il relativo fondoscala sulla pinza a un ampere seleziono il corrispondente fondoscala anche sullo strumento come vedete ho messo un ampere ma potrei selezionare qualsiasi altro fondo scala relativo alle pinze ht torniamo a un ampere possiamo impostare il valore della corrente limite di dispersione supponiamo che di essere un impianto con un rcd a 30 mA quindi impostiamo una dispersione massima di 30 mA andiamo con la pinza a pinzare quindi il conduttore di terra se disponibile quindi con una misura diretta oppure se ci troviamo in una situazione nel quale non riusciamo ad andare a porre la nostra pinza sul conduttore di protezione possiamo fare la misura indiretta ovvero possiamo andare a pinzare il conduttore di fase e il conduttore di neutro oppure se ci troviamo su un centrifase i tre conduttori di fase e il conduttore di neutro una volta che abbiamo posizionato la nostra pinza per far partire la misurazione premiamo il tasto go come potete vedere lo strumento ci mostra sia l'ora e la data ci mostra il valore della corrente in tempo reale misurata e il valore della corrente massima che ha rilevato quindi fino a che durerà la misura lo strumento aggiornerà in automatico il valore massimo una volta che abbiamo effettuato la nostra misura premiamo il tasto go nuovamente e come potete vedere in questo caso una corrente di dispersione molto piccola parliamo di 1 mA e quindi il valore inferiore rispetto al limite impostato l'esito è positivo grazie a tutti